A Enna si marcia compatti per il Policlinico. Ormai è una mobilitazione generale quella del territorio in vista del 21 aprile quando al tavolo tecnico promosso dall'assessore regionale alla salute Ruggerio Razza si parlerà dell'istituzione del Policlinico Universitario a Enna, un'idea a cui invece non è assolutamente d'accordo il Nisseno che reclama la nascita a Caltanissetta. Si sono espressi a favore l'intero Consiglio Comunale di Enna, i deputati regionali e nazionali, Luisa Lanteri, Fabrizio Trentacoste, Andrea Gerrizzo, il Presidente dell'Ordine dei Medici Renato Mancuso e numerosi sindaci dei comuni della provincia, associazioni di volontariato, culturali, di studenti universitari. Adesso è la volta anche di parti sociali e datoriali e associazioni culturali. Quelle che ho letto mi appaiono polemiche insensate, commenta il segretario provinciale della CGL di Enna Antonio Malaguarnera. Enna è sede dell'Università Core ed ha due facoltà di medicina, quindi logica e buonsenso vuole che il Policlinico deve essere costituito nella stessa città. Il Policlinico deve nascere dove l'Università Core ha le proprie strutture, continua il reggente provinciale di Sicindustria Fabio Montesano. Enna dispone di una struttura sanitaria prossima e contigua dove si prestano ad offrire alla facoltà di medicina ciò che hanno bisogno. Anche il Forum 2030 si schiera a favore del Policlinico Enna, tanto che nell'ultima seduta di coordinamento ha valutato negativamente la proposta dell'assessorato regionale alla salute di un Policlinico diffuso e ritiene che il posto naturale dove far esorgere il Policlinico sia il territorio ennese. Ci è sembrato inoltre, conclude il Presidente dell'Associazione Culturale Mondo Operaio Salvatore La Terra, in proprio l'atteggiamento del Delegato del Vescovo di Caltanissetta su una rivendicazione di un territorio contro un altro territorio.